Musica Eeeeeee Bene gentili di shitcock Io sono Luke E benvenuti in questo nuovissimo video Aggiornamento Ebbene si ragazzi l'avete visto nel titolo Oggi è il mio compleanno Yeeeeeee Fatemi mi raccomando gli auguri nei commenti Ne voglio tantissimi proprio anche più di uno Potete scrivere 10 commenti a testa con scritto Auguri E niente che così almeno sono un po' felice Dato che sono nato nel 97 Faccio 20 anni Quindi sono un po' tanti e niente sono troppi per youtube Quindi niente chiudo il canale Ciao ci vediamo nel prossimo a vita Ciao 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 A parte gli scherzi agosto è quasi finito E quindi inizierà ancora la nuova scalata Di settembre perché al mese di agosto Diciamo che è stato un po' tranquillo Un po' rilassato ci siamo dati un po' meno i video E fra è andato in vacanza E non so se è già uscito il vlog o no Perché questo video lo sto registrando Il 16 agosto Però comunque fra non è ancora tornato Ma appena torna fra uscire i suoi vlog super fighissimi E niente io ho già preparato qualche video Che vedrete nei prossimi giorni Però comunque i super video super belli Le cose tutte particolari Le serie con altri youtuber I nuovi giochi I tornei Tutto quanto riprenderà A bomba a settembre Quando voi tornate a scuola E quindi Al posto di fare i compiti Potrete guardare i nostri video Comunque ragazzi Ora che è il 21 agosto 2017 Sto con me Novent'anni E siamo a 1050 iscritti Il nostro obiettivo Per l'anno prossimo Sia il 21 agosto 2018 E arrivare a 10.000 iscritti Ce la possiamo fare Siamo già in 1050 Siamo partiti da Zero Siamo arrivati a 400 Siamo ritornati a Zero Per via di una storia un po' vecchia Che trovate nel primo video Di questo canale E abbiamo superato i 400 E superato i 1000 Siamo a 1050 Quindi entro 21 agosto dell'anno prossimo Dobbiamo essere In 10.000 E niente Io so già cosa mi ha regalato Fra come regalo di compleanno Quest'anno Ed è finalmente Una Lamborghini Così potrò andare un po' in giro Con quella macchina Fare un po' di vlog E Non è vero Mi ha dato una pacca Sulla spalla e basta Andate nel suo ultimo video E scrivete che è cattivo Grazie E niente ragazzi Il 21 agosto Non so che caldo farà Ma qui fa caldissimo Quindi direi che è il momento Di terminare questo video Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Di commentare scrivendo Lo sapete già Dai L'ho fatto apposta questo video E di iscrivervi al canale Per non perdere i prossimi video Noi Ci vediamo al prossimo video Vi ricordo di iscrivervi Bella Ciao